preceduto l'inizio di questa azione con Giaccherini che ha ricevuto un buon pallone questa volta invece di andare al tiro ha aperto ottimamente per il Franco Algerino 1-1 azione promettente di Giaccherini, controllo orientato, riesce a saltare con facilità il mediano del Cagliari ma soprattutto effetto all'assist per Lerì, quanto è importante ricevere bene, pulito, controllo diagonale da parte di Lerì e diventa un gol anche perché è stato ingannato Raffa dal rimbalzo che c'è stato all'ultimo, lui era in traiettoria e questo rimbalzo ha ingannato proprio la parata in diagonale però molto interessante